alfa romeo 159 distinctive design by giugiaro ciao amici di privacare sancesario sono davide oggi vi proponiamo un intramontabile alfa 159 in versione diesel con il 2000 da 170 cavalli e cambio manuale andiamo a scoprire più da vicino prima però vi ricordo che scrivendovi al nostro canale youtube e attivando le notifiche sarete sempre i primi ad accedere alle nostre ultime andiamo a vedere più da vicino guardate che bella questa colorazione ci sono diverse diciamo diverse personalizzazioni eseguite dall'attuale e secondo proprietario tipo l'assetto l'assetto è stato ribassato ovviamente la modifica è stata omologata oppure anche questa parte qui in basso e ovviamente poi su tutti i dettagli che volendo sono rimuovibili qui sull'avantreno poi troviamo i sensori di parcheggio anteriori fari fendi nebbia fari xeno abbiamo anche i getti lava fari bellissimi poi anche i cerchi lega bruniti da 17 pollici comprenze freno rosse e dischi praticamente nuovi sostituiti da pochissimo la carrozzeria si trova davvero in eccellente stato è stata comunque ripristinata sul posteriore poi troviamo il doppio scarico cromato e i sensori di parcheggio anche qui in posteriori il porta bagaglio ovviamente ha un'ottima capienza per quanto riguarda la manutenzione abbiamo tutto il libretto service compilato del primo proprietario fino a circa 95 mila chilometri dopodiché e ci sono le fatture dei lavori del secondo proprietario che ha eseguito tra l'altro da poco anche la distribuzione completa ecco gli interni in questa bellissima pelle becce marroncina chiara sono davvero in ottimo stato infatti non ci sono danni da segnalare se non un po di consumato è un po consumato qui vedete il supporto lombare il porto il punto già un pochino più delicato per il resto siamo davvero in eccellente stato quelli qui anche belli anche quelli se posteriori provvisti anche di attacchi isofix ricordate anche tutto il resto della strumentazione è davvero perfetta nessun danno qui sul volante abbiamo poi anche qui un'altra personalizzazione che l'accendo così la potete vedere qui anche la cuffia del cambio è perfetta l'altra personalizzazione è questo ammodernamento diciamo del display che è ovviamente provvisto oltre che di navigatore anche dei servizi carplay e android auto ovviamente sarà previsto anche la consegna della radio originale quindi non avete dubbi non avete problemi nel caso in cui potete ripristinarla come originale ce l'avrete il cambio il il ottimizzatore è un automatico bizona abbiamo i comandi al volante abbiamo il cruise control qui in basso eccolo qui quindi non manca davvero nulla vi ho già accennato un pochino della storia della vettura i proprietari le manutenzioni non vi ho detto però l'anno di immatricolazione che è il 2011 e chilometri attuali che sono 158 mila però devo dire che l'auto si trova davvero in condizioni eccellenti adesso andiamo anche testare un pochino su strada e vediamo come si comporta eccoci amici nel nostro test su strada di questa 159 devo dire che non abbiamo rilevato nessuna anomalia nei nostri test che facciamo quindi test accensione test fumi tagli scarichi né tantomeno nel test avantreno quindi sospensioni scatole dello sterzo braccetti è tutto in ordine è stato appena sostituito un vicinetto sulla ruota sinistra quindi nessun tipo di rumorosità rilevata ovviamente è buono il dato sui consumi che abbiamo rilevato per quanto riguarda invece la dotazione accessori che ho già fatto vedere prima la maggior parte di quelli più importanti vi consiglio prima di andarli a scoprire tutti sul nostro sito www.privagar.com sezione san cesario cosicché li trovate tutti gli accessori di serie e di optional cosa importante potete anche venirla a vedere e provare questo gioiellino e ve lo consiglio vivamente per questo vi basterà contattarci ai numeri che trovate in descrizione del video e fissare il vostro appuntamento per questo video è tutto un saluto e alla prossima ciao